ciao io sono milo e benvenuti sul mio canale vuoi sapere come creare il verde il violetto o il beige utilizzando solo i tre colori primari bene io ho preparato il video proprio su questo argomento ho diviso il lavoro in tre parti utilizzando appunto il ciano il magenta e il giallo in più ho aggiunto il bianco e il nero per ampliare un pochino la gamma cromatica nessuno vi vieta comunque ma anzi vi incoraggio a sostituire i tre colori primari con altri colori quindi invece del ciano potete utilizzare magari il blu ultremare o il blu di prussia e invece del magenta il rosso di cadmio e invece del giallo che ho usato io potete utilizzare magari il giallo limone per variare la gamma cromatica quindi a questo punto vi lascio al video spero che sia interessante e se vi è piaciuto vi prego di supportarmi magari iscrivetevi al canale o mettete un mi piace e buona visione e ci vediamo al prossimo video ciao eccoci qua ciao a tutti allora qui ho preparato un cartone telato adesso andrò a mettere qua sul cartone telato i tre colori primari quindi il magenta il giallo e il blu inoltre aggiungo aggiungerò anche il bianco di titanio e il nero di avorio allora io ho scelto i colori standard quindi i colori primari standard sono il il rosso magenta che lo metterò qui un pochino poi il blu il ciano che è qui poi metterò il giallo io ho scelto il giallo permanente scuro che mi sembra un bel giallo bello caldo perché nei colori primari il giallo non è specificato il rosso e il blu si magenta e il ciano che sono dei tipi di di blu ed è un tipo di rosso mentre il giallo non è specificato quale giallo giallo in generale quindi io ho scelto il giallo permanente scuro poi metterò un po di bianco qua e un po di nero d'avorio qua io ho scelto il nero d'avorio non è nero di marte perché mi sembra più bello per solamente per gusto personale ecco niente di particolare poi qui andiamo a fare una campitura qua di di magenta metto un po di olio di lino per scioglierlo poi ecco facciamo un bel quadretto bello grande che dopo vi farò vedere come come lo riempirò questo questo rettangolo ecco facciamo un bel quadretto bello aggiungo un altro po di magenta perché ne ho preso poco ecco qua anche più grande lo possiamo fare così ci sta più roba ho un bel rettangolone così poi allora dal magenta vi volevo far vedere come fare il rosso se aggiungo un pochettino di giallo ma proprio una punta viene rosso ecco vedete questo è rosso se poi vado ad aggiungere ancora giallo la tonalità la tonalità virerà verso l'arancione ecco allora vedete che è venuto un arancione abbastanza scuro perché da qui si capisce già una cosa che se volete fare l'arancione vi conviene partire dal giallo e aggiungere il rosso poco alla volta perché i colori scuri hanno un potere colorante maggiore dei colori chiari e se io partivo dal giallo aggiungevo un pochettino di magenta alla volta veniva un arancione più chiaro un migliore avete capito? adesso per ottenere un arancione chiaro mi toccherà usare tantissimo giallo quindi conviene partire dai colori chiari e aggiungere lo scuro poco alla volta se io qui adesso vado ad aggiungere un po' di bianco ovviamente si schiarirà ecco poi visto che abbiamo il magenta facciamo anche il rosa quindi aggiungendo un po' di bianco viene rosa poi adesso vi volevo fare vedere aggiungendo quindi un po' di bianco anche al rosso vediamo cosa viene fuori ecco un altro rosa che è diverso da questo perché qua c'è un po' di giallo poi aggiungiamo un pizzico di blu verrà questo bel colore porpora vedete come stendo bene il colore ne basta poco proprio io volevo farvi vedere appunto che si lavora per per piccole quantità di colore ecco ecco se io aggiungo un po' di bianco ecco 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 poi se io aggiungo un pochettino di nero a questo color porpora adesso ne ho messo veramente troppo poco verrà questo bordeaux ho aggiunto un po' di magenta perché stava diventando un po' troppo acquoso un po' troppo liquido non si vedeva bene il colore ecco se io vado a mettere ancora ad aumentare la proporzione di blu gli verrà un bel viola proprio un bel viola carico molto intenso molto profondo andiamo a stendere bene il colore ecco ecco qua un bel viola se lo vado a schiarire un po' con un po' di giallo eh di bianco scusate questo violetto molto bello a questo punto vi volevo fare vedere come si ottiene un beige un beige un beige allora andiamo a schiarire mettiamo un po' di bianco quindi poi mettiamo un pochettino di di giallo troppo troppo un pochettino di giallo e una punta di nero proprio una punta ecco vedete che è venuto è venuto fuori il beige schiarendolo un po' si vede meglio una puntina di giallo in più questi possono essere due ottimi colori per fare l'incarnato della pelle questi due qui magari variando leggermente le proporzioni ecco vedete comunque che lavorando proprio per piccolissime quantità si riescono a ottenere delle molte tonalità molti toni molte variazioni adesso io qua ho il pennello abbastanza sporco di nero ok vedete che questo è lo stesso di questo ma questo qua è più chiaro qua ho aggiunto più più nero se io vado ad aggiungere un po' di giallo vedrete che otterremo una terra ecco vedete questa qui è una terra di siena se vado ad aumentare il giallo si schiarirà leggermente vedete questa qui è una terra di siena forse manca un pizzico di rosso ecco adesso ci siamo abbiamo raggiunto la tonalità della terra di siena lo faccio anche qua così vedrete che dopo aggiungendo un po' di nero e un pizzico di blu otterremo la terra d'ombra bruciata quindi un po' di blu e un po' di nero ecco vedete questa qui è una terra d'ombra bruciata o marrone scuro molto scuro molto profondo ecco direi che come esercizio si capisce quindi lavorare per poche quantità e sperimentare molto ok poi adesso pulisco un po' i pennelli dal magenta che ce l'ho ancora qua e faremo una bella campitura di blu ciano questo bel blu ciano che mi piace molto tra l'altro bellissimo colore ecco qua facciamo una bella lo sciolgo un po' con un po' di olio di lino e andiamo a fare la campitura di blu ciano allora vedete che io ho il pennello ancora sporco un pelino sporco di giallo non succede niente anche se il pennello non è pulito al 100% ma ci sono residui di colore non succede niente perché in natura non esiste un blu così puro non esiste a meno che voi non doviate proprio fare usare un bianco puro per fare un colpo di luce che ne so del sole per dire il centro della luce della palla del sole forse lì dovete usare un bianco puro ma in natura non esistono i colori puri fa parte del bello della pittura non so se mi sono spiegato non ha senso essere così puntigliosi precisi e voler tutti i costi i colori puri il pennello puro il pennello pulito perché tanto non esistono in natura allora ecco il blu poi qui facciamo dei verdi quindi se prendo il giallo e non mischio il blu ovviamente viene il verde adesso forse il giallo ho poco ne aggiungiamo un po' lo metto qua così lo vedete perché ho abbassato la videocamera eccoci ecco stesso giochetto di prima quindi andiamo ad aggiungere un po' di bianco e lo schiariamo ecco se aggiungo aumento la proporzione di giallo adesso lo faccio qua in un piccolo ecco si schiarisce però ricordate cosa ho detto nel precedente col magenta che bisogna partire dai colori più chiari il giallo è ovviamente più chiaro del blu se volete ottenere un verde io consiglio di partire dai colori chiari perché sennò consumerete quintali di giallo per arrivare a un verde chiaro questo lo schiariamo un po' ecco mi piace poi aggiungiamo un po' di magenta vedete vedete che differenza che c'è è la stessa è lo stesso colore questo qua sono i stessi colori magenta e blu però vedete che non è uguale proprio al 100% perché qua sono partito con una base magenta e ho aggiunto il blu sopra e qui invece il blu sotto e ho aggiunto il magenta sopra e voi direte eh vabbè ma io li mescolo sulla tavolozza non li mescolo sulla tela eh sì è vero però riuscite a vederli in modo diverso mentre li mescolate se partite con una base di un colore aggiungete l'altro se io aggiungo un po' meno magenta alla fine ne ho aggiunto la stessa quantità ecco così si vede la differenza questo non è uguale a questo vedete la differenza lavorando per quantità minore quantità di magenta più magenta andiamo a fare qualche altro qualche altro verde aggiungiamo un pizzico di magenta e vedete che questo non è proprio identico a questo aggiungiamo ancora un po' di magenta aumentiamo la proporzione vedete basta una piccolissima quantità di magenta che ho aggiunto a questo colore ed ha cambiato ed ha cambiato la tonalità questo vedete che non è uguale a questo è sempre un verde ma è un verde un po' più scuro diciamo questo qui più un verde militare se io aggiungo un po' di bianco bello mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace questo potrebbe essere un verde vedete che va bene per fare dei fili d'erba questo qua per le ombre o questo le ombre di un bosco degli alberi poi lo schiariamo un po' ecco poi volevo fare un colore particolare che ho in mente aggiungendo un po' di ciano no scusate un po' di magenta sul ciano un po' di magenta sul ciano e un po' di bianco e aggiungendo un pizzico di nero un colore vedete che ottengo un colore ceruleo che va molto bene per fare le ombre delle nuvole adesso facciamo un un azzurro prendiamo un po' di bianco perché ne ho poco oh che bel turchese questo è proprio un turchese bellissimo prendo ancora un po' di blu e metto un pizzico di magenta poi mettiamo un po' di giallo e voglio fare un colore acquamarina ecco sì sta venendo fuori colore acquamarina ho aggiunto proprio una punta una punta proprio un tocco di giallo ma pochissimo vedete secondo me è molto utile questo esercizio che dovreste provare a fare così si prende confidenza con i colori mescolare vedete cosa succede mescolandoli l'uno con l'altro ecco ok adesso lavoriamo con il giallo qui ovviamente prendo i pennelli puliti perché se facessi la campittura col giallo sporco di qualsiasi colore verrebbe un pastrocchio che non si capirebbe niente non si capirebbe non si capirebbe non si capirebbe non si capirebbe ecco allora vedete questo giallo che bello giallo permanente scuro bellissimo il miglior giallo del mondo allora qua prendiamo un po' di una punta di magenta per farvi vedere che ne basta pochissimo e otteniamo di arancioni migliori del lavoro che abbiamo fatto prima con il magenta guardate che bello questo arancione aumentiamo un po' il magenta se invece io volessi calare prendere proprio una punta di magenta proprio un tocco teniamo questo giallo scuro vedete che il giallo questo giallo è permanente scuro qui non è un colore molto coprente ed ha il potere colorante forte e quindi i colori rimangono piuttosto diluiti un po' acquosi proviamo ad aggiungere un po' di bianco vedete per dare la luce all'arancione stessa cosa di qua poi proviamo a mettere solo il bianco sul giallo vedete come lo schiarisco così ecco io ho il colore ho il pennello ancora sporco di un po' di rosso viene il giallo di Napoli molto bello poi aggiungiamo un pizzico di blu per ottenere dei bei verdi vedete 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 Grazie a tutti. Poi adesso prendiamo un po' di nero e mischiamo col giallo. Vedete che sembra verde. Il nero mischiato con i gialli fa sempre questo effetto. Sembra un verdone. Aggiungo un po' di più. Aggiungo un po' di magenta e dovrebbe venire un marrone. E infatti, eccolo qua il nostro marrone. Molto caldo, molto bello. Quindi giallo, nero e magenta. Lo posso andare a schiarire. Col bianco. E questo è un altro beige. Un po' più tendente al rosa. E un po' più tendente al blu. Ho... Un po' più tendentale. poi proviamo a fare un po' di esercizi col bianco quindi cercando di ottenere dei bike grigi variando solo la quota di un colore di proprio una quantità piccolissima un tocco di nero guardate che bello questo grigio con un po' di giallo e un po' di magenta poi possiamo aggiungere un po' di blu sempre col nero ovviamente perché sennò non è un grigio tocco di blu ecco non è un po' di blu non è un po' di blu già un po' di nero ecco qua che bel grigio violaceo molto bello e basta speriamo che il video sia stato di vostro gradimento speriamo sia stato interessante io credo di sì qualcosa di buono è uscito continuate a provare e a divertirvi coi colori e ci vediamo il prossimo video ciao